Siamo adesso in compagnia della dottoressa Sara Iannone, presidente dell'associazione all'alba del suo millennio. Noi siamo qui perché la dottoressa in particolare ha consegnato il prestigioso premio nel merito di questa mattina al professor Delfino, ma soprattutto per sentire anche da parte della dottoressa un commento a caldo sugli interventi di questa mattinata. Autorevolissimi, è stato un dibattito interessante, molto interessante, a partire dall'avvocato di Stato Elena Scaramucci che ha fatto una relazione su quello che è l'attuale legislatura e passi avanti che si sono fatti nella legislatura in materia dei beni culturali per proseguire con il presidente del TAR di Reggio Calabria, il professor Politi, che ci ha dato, è stato illuminante, molto interessante, partito dall'inizio delle legislature a tutela dei beni culturali, a partire dal Cinquecento, per proseguire poi fino al Novecento, Trentanove, con i primi regolamenti a tutela appunto di tutti quelli che sono i beni materiali e materiali, fino ai giorni d'oggi. Chiaramente l'intervento provocatorio del professor Luciano Delfino è quello che ha entusiasmato la sala e devo dire creato anche in alcuni momenti anche di disappunto perché è stato un intervento bellissimo, interessantissimo ma fortemente provocatorio. Devo dire che io mi riconosco in gran parte delle cose dette dal professor Delfino ma nonostante ciò però io mantengo e ritengo che ancora una tutela dello Stato da parte, la presenza quindi dello Stato è vero che va regolamentata, va alleggerita ma questo vale però per lo Stato in generale quindi la sburocratizzazione dello Stato è la cosa più ambita che quasi tutti i politici vantano di dire, di fare eccetera ma che si fatica quindi per cui io per questo condivido il pensiero e la tesi di Delfino quindi spazi e privati ma tutto ciò va regolamentato e comunque al di sopra di tutto quello che poi conta c'è la professionalità, la vera bravura e quindi è stata una giornata veramente interessante. Intensa ricca di stimoli del resto come diceva lei anche in una chiacchierata informale se non si provoca è difficile poi ottenere delle cose. Chiudiamo con il premio che ha peraltro messo e acceso i riflettori su una personalità, uno studioso italiano, un premio europeo che quest'anno premia l'Italia quindi l'Italia come gemma unica di un grande diadema che è l'Europa. Assolutamente, quindi per me è stato un onore conferire, consegnare, consegnare questo premio proprio per come dice perché Delfino lui fa dell'ironia sempre, gli piace dire che è una persona semplice e io quindi sulla scia di questo suo modo di fare appunto dicevo un umile calabrese ha veramente onorato, è lui che ha onorato questo premio europeo meraviglioso nel contesto poi di questa giornata dell'Accademia Mauriziana di cui fra l'altro mi onoro di essere senatrice già dal 2012 che proseguirà con tante bellissime iniziative durante la giornata. Benissimo, invece il nostro rimando con gli amici di Libri.tv e alle prossime iniziative che avranno magari come epicentro proprio i beni culturali, chissà che non ci siano poi degli sviluppi in futuro. Grazie dottoressa Iannone. Grazie a tutti.